È partito il nuovo servizio paga e via di ferro tramviaria attivo sul collegamento tra l'aeroporto di Bari e centro città. Come suggerisce il nome, consentirà l'accesso veloce ai treni avvicinando le carte di pagamento direttamente ai nuovi terminali presenti nelle stazioni di Bari e aeroporto. Sviluppato da ferro tramviaria, SIA e Tecne, il sistema reinventa le modalità di acquisto dei biglietti, garantendo un'operazione completamente digitale, veloce e sicura, garantiscono dall'azienda. Per accedere ai treni è sufficiente avvicinare la propria carta, visa o mastercard a uno dei tornelli o totem dedicati, presenti nelle stazioni e in caso di controllo ai terminali in dotazione al personale di verifica. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di carta contactless, anche virtualizzata su smartphone o dispositivi wearable. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi di trovare il punto vendita per l'acquisto del titolo di viaggio prima di accedere ai treni. Questo sistema è già molto diffuso nelle metropolitane di Roma, nella metropolitana di Milano e questa azione, diciamo, ferro tramviaria, la resta disponibile per i propri passeggeri di aeroporto, per chi proviene anche dalle ferrovie dello Stato o dalle a Pullo Lucane, direttamente al piano binari per prendere il treno verso l'aeroporto. Grazie. Grazie.